carissimi pace e buona giornata di benedica leggiamo stamattina nell'epistola agli ebrei al capitolo 12 al verso 1 dove scritto anche noi dunque poiché siamo circondati da un così grande schiera di testimoni deponiamo ogni peso il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta questo verso è preceduto da un bellissimo elenco di esempi di fede che ci mostra cosa vuol dire una vita veramente cristiana esso non è o meglio è una lista di personaggi biblici che hanno tagliato il traguardo con onore con il massimo della loro massimo del loro impegno e quindi alla luce di questo anche noi dobbiamo essere pronti a seguire il loro esempio e questo è qualcosa che ci deve entusiasmare perché ne guardare la vita di questi uomini di queste donne di cui leggiamo nel capitolo 11 vediamo certo che ci furono grandi prodigi grandi miracoli ma anche situazioni della seconda parte del capitolo 11 in cui prodigio e miracoli non ci furono ma in ogni caso per ognuno di loro c'è l'attestazione di aver vissuto una vita gradita a dio e questo mi preme di mi permette scusate di fare alcune brevi riflessioni innanzitutto la nostra vita deve essere valutata non dagli uomini ma dal signore e questo non vuol dire che possiamo fare tutto quello che vogliamo ma che dobbiamo fare tutto quello che piace al signore perché lui sarà colui che avrà il diritto di giudicare la nostra condotta e quindi dio ci aiuti come abbiamo letto anche nel verso di stamattina a deporre i pesi a deporre il peccato che ci avvolge in modo da correre con perseveranza la gara che ci è proposta che non è una gara polistica di tipo olimpionico ma è una corsa che ha come traguardo il cielo e lungo la quale ci saranno tanti ostacoli da affrontare e da superare ma con l'aiuto del signore noi riusciremo a centrare questo obiettivo anche noi come quelli che ci hanno preceduto di cui leggiamo nel capitolo 11 dell'epistola agli ebrei di cui conosciamo la testimonianza perché magari sono fratelli e sorelle che sono stati strumenti nelle mani di dio per fondare o per proseguire l'opera nelle città dove viviamo e nelle comunità che frequentiamo anche noi dobbiamo essere di quelli che sono decisi nel fare la volontà di dio e che sono pronti anche a sacrificare i propri interessi pur di vedere la testimonianza dell'evangelo progredire anche noi non dobbiamo tirarci indietro o non dobbiamo neanche pensare di essere esclusi né tantomeno dobbiamo andare avanti solo se vediamo miracoli segni e prodigi no anche noi dobbiamo seguire la testimonianza della fede di questi uomini ed essere grati a dio se egli opererà in modo miracoloso ma rimanere fedeli qualora egli dovesse permettere delle grandi prove nella nostra vita anche noi ci vogliamo unire a questa schiera di testimoni che ha fatto la storia della fede che ha permesso al nome di dio di essere conosciuto da popoli nazioni diverse tra di loro anche noi vogliamo essere di questi delle volte alcuni pensano di potersi tirare indietro pensano che questa chiamata non è rivolta a loro credono che siano stati salvati soltanto per frequentare un culto alla domenica per spendere un'oretta in chiesa e così mettere a tacere la propria coscienza e assolvere il proprio dovere verso dio no noi non vogliamo essere di quelli che scambiano la fede cristiana per una misera religione noi vogliamo essere di quelli che certo sono presenti nella comune adonanza per celebrare il nome di dio ma che poi come coloro che le hanno preceduti danno al signore il primo posto cercano prima il regno di dio e la sua giustizia e sono certi che il signore sarà pronto a dargli ogni altra cosa anche noi vogliamo essere di questi vogliamo essere come quella donna che mise due spiccioli nella cassetta delle offerte venne loggiata da gesù perché aveva messo tutto quello che aveva per poter vivere anche noi vogliamo essere di questi vogliamo essere come pietro giacomo e giovanni i quali lasciarono ogni cosa seguirono gesù e andarono laddove lo spirito di dio li guidava e si lasciavano ogni giorno riempire dall'alto per poter essere dei fedeli testimoni e avere la pentecoste viva nella loro vita anche noi sì anche noi dobbiamo essere di questi se vogliamo continuare a vedere l'opera di dio prosperare nei nostri paesi e se veramente vogliamo vedere le nostre famiglie ai piedi del signore anche noi dobbiamo essere di quelli che sono attivi nel pregare nel cercare il signore nell'intercedere per i bisogni che ci sono in mezzo al popolo di dio anche noi non dobbiamo tirarci indietro non dobbiamo pensare che ci che siamo stati esclusi non dobbiamo essere di quelli che dopo aver messo la mano alla rato guardano indietro come la moglie di lotto dopo aver cominciato il percorso della fede decidono di riguardare a ciò che hanno lasciato no noi vogliamo volgere lo sguardo verso cristo verso la meta verso ciò che ci attende perché perché ciò che ci è stato preparato è molto più glorioso di quello che abbiamo lasciato perché quando guardiamo a cristo allora la fede si forma cresce si sviluppa e noi andiamo avanti come dice un nostro vecchio cantico di valore in valore anche noi sì fratelli e sorelle facciamo la volontà del signore amiamoci gli uni gli altri serviamolo con tutto il cuore non risparmiamoci ma quando si tratta di fare qualcosa per il signore dio ci dirà la grazia di essere i primi a dare il nostro contributo perché di questo il signore si compiacerà la pace e la grazia e l'amore la presenza e la guida di dio ci accompagna ancora oggi dio ci benedica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti